Ma ci penso... Gislandi! Comendatore! Comendatore Gislandi! Comendatore, venga! E' uno del suo numero! Lui è divino! Signori, attenzione! Attenzione, il Comendatore Gislandi e il suo numero! Grazie! Saluta un po' tutti quanti! Buonasera! Di cosa hai mangiato stasera? Insalata! No, non ci credo! Cosa hai mangiato di primo piatto? Insalata! No, e di secondo, insalata! Dessert, insalata! Cosa hai bevuto? Insalata! Buonasera!